Il nostro gruppo è pronto a votare anche domani la mozione di sfiducia presentata dai colleghi della Lega al Governo Conte, domani dopo domani, ma al prima possibile perché questa crisi deve essere risolta in tempi velocissimi per istituire subito la parola agli elettori. La discussione molto animata rispetto alla convocazione di domani ci appassiona fino a un certo punto perché la notizia non è questa, la notizia politica di oggi è che è stato impedito, almeno così vorrebbe, una nuova maggioranza di votare la sfiducia al Presidente Conte limitandosi soltanto delle comunicazioni il cui esito prevedibile dal punto di vista politico è la sopravvivenza del Governo Conte e la nascita di una nuova maggioranza che oggi si è andata delineando una maggioranza udite e udite tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e l'EU, cioè l'estrema sinistra. Di fronte a questo accordo politico secondo noi è scandaloso, ribadiamo la nostra assoluta volontà di dare subito voce agli elettori e cittadini. Noi voteremo domani in aula tutte le risoluzioni che presenteranno i gruppi perché il Presidente Conte venga in aula subito e risponda alla mozione di sfiducia. Tutte le altre soluzioni sono modi per prendere tempo o per perdere tempo. Grazie.